quanti di voi hanno ascoltato almeno un podcast nella loro vita volete imparare qualcuno di voi ha voglia di diventare un podcaster un giorno di scrivere per i podcast benissimo spotify boom ascoltateli vatteli a cercare non compete con i libri e con le serie tv perché i libri e le serie tv ti richiedono una posizione devi stare fermo a leggere o devi stare seduto a guardare quindi lo puoi fare solo in alcuni momenti della giornata mentre i podcast li puoi sentire sempre se in macchina corri tagli la verdura a me piace un casino ascoltarli mentre cucino io la sera tipo alle sette no mi stappo mi faccio un bicchiere di vino tiro fuori le cose da cucinare metto le cuffie nessuno mi deve rompere i coglioni il top cioè proprio sai e ti fai dei viaggi pazzeschi di podcast sono questo sono il mezzo che ci ha fatto riscoprire quanto è bello immaginare perché con il video questo non è possibile quando tu guardi un film c'è una specie di imposizione delle immagini c'è un regista un direttore della fotografia qualcuno che ha scritto quella roba e che la sta facendo vedere come lui o lei la vuole vedere diciamo la tua fantasia in quel momento si blocca perché hai l'audio e il video che ti arrivano e sei chiuso in una scatola non sto dicendo che il video è brutto assolutamente però il podcast ha questa virtù ti fa immaginare ti accende l'immaginazione e lo vivi come una cosa molto più intima perché se io ti racconto una storia e mentre te la racconto ti partono come dire ti parte il tuo film nella tua testa che è tuo e solo tuo tu quel film lo costruisci con i tuoi ricordi con le cose che hai visto magari io ti racconto la storia di un personaggio e tu a quel personaggio dai un'identità di qualcuno che già conosci o che hai visto di qualche attore di qualche film o di qualcuno che ti è rimasto impresso e se ti racconto che sono stato sono entrato in una casa diroccata e che ci sono i vetri tutti rotti e che c'è il tetto mezzo sfondato e intorno c'è la campagna io ti sto dando delle fotografie che però tu riproduci nella tua testa a modo tuo che probabilmente ci metterai qualcosa che hai visto da qualche parte e questa cosa fa sì che il racconto sia molto più intimo perché è il tuo racconto ognuno si guarda il suo film ma la scrittura per podcast è proprio una sfida perché ripeto l'ascoltatore ti molla in due minuti puoi essere il primo il più grande podcaster del mondo o l'ultimo arrivato non importa se uno inizia a rompersi le palle o se sei noioso o se il racconto scende o perde intensità o diventa un po ripetitivo o si banalizza ciao bisogna tenere sempre alta l'attenzione con ritmo narrazione mettendosi sempre dall'altra parte cioè io che scrivo devo anche pensare di essere un ascoltatore ma un ascoltatore sta roba che ho scritto la capisce la capisco solo io la comprende è facile immediato la devo ripetere la dico adesso poi magari la ricordo dopo così siamo sicuri che l'ha capito questi personaggi che entrano nel racconto non sono un po troppi maurizio francesca gaetano michele non sono un po troppi forse forse magari nella prima puntata ne metto due poi ne faccio entrare altri due nella seconda piano piano perché devono la gente si deve abituare l'ascoltatore si deve abituare bisogna seminarle le cose e poi farle germogliare come si trovano le storie ok ci si siede e si ragiona questa è la parte più faticosa del di tutto il processo produttivo di qualsiasi cosa la parte in cui ti siedi ti metti a pensare ed è faticosissimo però è necessario e utile io la cosa che dico sempre è meno faticoso fare milano lecce lecce milano in un giorno che sedersi a far a pensare a farsi venire un'idea perché è faticoso e poi ai mille distrazioni e io ho fatto questo detto perfetto iniziamo a creare delle categorie chi sopravvive a cosa per esempio dai facciamo un brainstorming ditemi una persona che dobbiamo trovare otto storie di sopravvissuti come disastro aereo perfetto uno disastro aereo sopravvissuto disastro aereo e trovi la storia del sopravvissuto al disastro aereo altri e disastro naturale chi l'ha detto disastro naturale tsunami ho trovato la storia del di due persone che sono sopravvissuta lo tsunami in thailandia nel 2004 sei sopravvissuta lo tsunami del 2004 microfono subito mi hanno detto che mi sono meritata questo microfono quindi ringrazio allora cioè quando dicevamo ognuno c'è una storia dove erano dove erano i tuoi eravamo tutti in spiaggia ma in che paese thailandia thailandia eravamo a crabi una delle isole a crabi certo certo e questi qui che ho fatto io erano lì a crabi e tra l'altro sì io non me lo ricordo però è stato un evento abbastanza traumatico perché anche degli amici purtroppo non sono sopravvissuti e loro sono scappati proprio dal dal mare si siamo scappati dalla spiaggia quando abbiamo visto ritirarsi le acque tutti si sono immobilizzati perché ovviamente il terrore non ti fa muovere e quindi sotto tutti paralizzati e poi a un certo punto la gente ha iniziato a scappare e ne parlate a casa di questa storia non tanto ormai perché poi abbiamo iniziato andare al mare tranquillamente mia madre ci ha di nuovo riportato al mare però nel senso che ci ha messo un po a riportare cioè ci ha avuto però poi non ci sono stati problemi infatti anche quando c'è realtà io un po paura delle onde del mare adesso anche se non mi ricordo il fatto però comunque è una cosa che ti colpisce penso anche soprattutto ai miei e mio fratello che se lo ricorda più a perché tuo fratello era più grande tre anni più grande quindi aveva cinque anni quindi se lo ricorda meglio ma non è diciamo una cosa di cui non si parla perché è stato un evento traumatico se ne parla qualche volta però no però è più tabù cioè si lascia lì nel passato assì sì ma nel senso che questa cosa è stata esplicitata proprio così cioè non parliamo che ogni volta che se ne parla mi magari mia madre si emoziona un po quindi meglio di no ah sì sì beh per esempio un esercizio che potresti fare se tua mamma lo vuole ma insomma mamma è provare a farglielo raccontare intervistarla dove eravate quando siete arrivati anzi partire da prima quando siete arrivati anzi prima ancora come avete deciso di andare in Thailandia perché papà una volta è passato dal negozio di viaggi ha visto una foto di una palma e detto dov'è siamo andati in Thailandia già vedi i fili del destino no come una roba cioè così che nasce così ti porta in quel punto in quel momento in quel ok quindi potresti provare avendo questa storia pazzesca sicuramente e poi una volta quando siete arrivati lì com'è andata ma non so avevamo litigato e quindi boh quel giorno poi non volevo andare in quell'isola lui voleva andare in un'altra e allora ho detto però va bene andiamo capito quante cose ci sono di racconto proprio a proposito di quello che stavi dicendo adesso quindi andare a chiedere alle persone le cose quando non hai un tesserino giornalistico o non hai un nome come consigli di approcciarsi alle persone che vuoi intervistare semplicemente grazie di questa domanda grazie perché è una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi giustamente beatrice dice ma io non sono una giornalista io non sono nessuno tra virgolette nessuno mi sta mandando non ho un titolo e quindi come mi presento di questa cosa qui non gliene frega un cazzo nessuno vai dalla panettiera e dici scusi la volevo intervistare per un podcast mi faccia vedere il tesserino da giornalista mai successo mai mai successo mai non gliene frega niente nessuno quando facevamo veleno ero bellissimo cioè dovevo spiegare nella bassa modenese i podcast ma ascolta ma cos'è quella roba lì e devo fare un podcast io gli ho fatto io stronzo glielo dicevo apposta è per un podcast a quelle robe lì sì sì che si vedono sì sì quelle robe che si vedono finiva lì non mi chiedevano nient'altro ascolta ma poi dove si legge questa roba è su repubblica.it ah no io quelle cose lì della tecnologia non mi interessa basta però intanto ti aveva raccontato tutto e magari poi ti invitava pure a bere un bicchiere di vino cioè bisogna scaldare un attimo i motori no? cioè devi anche entrare che una persona in 20 minuti ti racconta il naufragio deve un attimo imparare a fidarsi di te deve lasciare aprirsi dopo un'ora di conversazione la gente se sei brava a raccontare se vede che sei veramente interessata quella persona dopo un'ora ti racconta i cazzi suoi ma nella maniera più assoluta proprio questa è matematica se io vado dalla mamma di Lavinia e c'è voglia di raccontarmi ci sediamo è tra un'ora mi racconta quello che non avrà raccontato al papà di Lavinia perché è così perché poi c'è un momento della conversazione quando parli con una persona in cui quella persona lo devi creare tu eh devi creare il setting in una stanza chiusa poca gente no rottura di balle no via telefono tutto silenzio ci siamo solo io e te tu crei quel setting e si scalda proprio a un certo punto senti proprio che ti sintonizzi sulle stesse frequenze sue e quella persona si apre e ti dice delle cose straordinarie e diventa un racconto molto emotivo tutto quello che è parlato e che è trascritto lo metti su un file e ti inizi a comporre il tuo copione butti dentro tutte le cose scritte dagli altri da tutte le parole degli altri prima e poi tu intorno alla fine scrivete non scrivete mai niente prima prima non sapete un cazzo non c'è da scrivere si scrive dopo si scrive noi arriviamo per ultimi gli autori arriva cioè prima gli altri si siedono gli apparecchi tu qua 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 grazie e poi fai tu a me arriva la gente ho scritto volevo fare un podcast ho già scritto una puntata basata su cosa la durata la decide il contenuto e la capacità che tu hai di veicolarlo la il nostro mestiere è raccontare le cose nel modo più onesto corretto possibile ma anche nel modo più coinvolgente e appassionante possibile quindi è quello che determina la durata grazie 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 Grazie.